ciao a tutti ragazzi noi siamo i rec e benvenuti in questa prima serie su fifa 16 ultimate team come potete vedere abbiamo un big mac maccarone in forma 74 gli abbiamo costruito intorno una squadra di bronzi un po così a caso serie a serie b e qualche italiano e il nostro obiettivo sarà avere una serie a oro completa seguendo una semplice tabella che vi lasceremo in descrizione e un sovraimpressione del video e praticamente ad ogni gol di maccarone ci sarà un potenziamento più gol fra maccarone comunque la tabella la potete vedere abbiamo il nostro big mac pronto a spaccare i culi un pollice poi abbiamo nominiamo un po di giocatori osuji che è un bomber l'abbiamo messo perché un bomber tommasone berni che con la sua cresta e mike shosha maurizio shoshi è proprio piede debole a cinque hai capito non l'ho visto però ho pagato 200 che è il quattrino e abbiamo a centrocampo ad impostare il nostro ronaldo cinese non costiamo attenzione andiamo a giocare la prima partita e vediamo un po cosa succede runey firmino e ciò guarda guarda terry che faccio quadrato che è esterno sinistro sterling no si è comunque una buona squadra la buon proverita ci si stringe il culo ma noi col potere della pelata di big mac maccarone dai big mac mi raccomando mi raccomando gioca diversamente la come giochi del sport si blocca come dai no gol questo è veloce tommasone tommasone perchè abbiamo preso tommasone altrimenti ti ha fatto una parata da maurica ver toccina tranquilli tranquilli ci sono io sono qui sar jibbee o comunque volevo salutare luca Was ho qui bella oh questa è bellissima Per merita ooooo WU 실อยi QUO D É FU OH DIO Oh ZUSHI Mike Shosha Ohродnie Shosha Dai Shosha Shosha che viene倍 tu vai che viene倍 che viene倍 saludaci tu Piiva Stormi pas c'entrati con il maschile eccolo nooo o è la forza del lag che ci sta aiutando no big mac non si va a sentire tira tira ciurro bella bella mi è piaciuta va bene dai ragazzi no questo non ha dov'è makamok al limite a giro a giro a giro oh no di potenza bello oddio uuu big mac attento fai una roba in te vabbè va bene vabbè ragazzi dai usucci ci sono bombe basta urlare tira non sei mica la roma di zema oddio edo è troppo gasato calmati un attimo jesus oh jesus calmati no 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 ecco non alciano porco porco 45 minuti 35 c'è un po' spento vabbè dai ha fatto un bel gol eh ci ha spento ho detto bello bello dai bravo shushani dai shushani dai mike shusha dai mike shusha fa un po' schifo oltre che essere picchiato comunque noi stiamo aspettando il video di mike shusha che viene picchiato dal 17 ottobre e oggi e oggi continuiamo oi 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 invece di risparmi oggi ne abbiamo 18 eeeh ne abbiamo 18 cosa sei pippa ti sei messo davanti ma io non ho preso neanche una pera ma cosa dici eeeh ma eeeh ma trova scusa oe do calma ma nooo ma pari la pippa estremola 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 è riuscito a pareggiare è finita un po' male 2 a 0 abbiamo perso quindi abbiamo deciso di comprare Boateng seguendo la nostra tabella che non è Kevin Prince no no è un argentone l'abbiamo preso perchè kingsley ora andiamo a giocare ecco vediamo la sua squadra eh non male Kevin Prince Deutschland ha poca in te vedo un Draxler se non mi sbaglio Rodriguez no quello esterno sinistro l'altro è Big Mac perchè si allunga la palla no 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 perchè l'abbiamo preso Bernie non sei capace è tutto a posto perchè è caduto Bernie non sei rotto uno cazzo cioè già fanno schifo un già un già mi sei pure rotto quello a centrocampo ma è normale uno che stiamo usando Macca troppo lì Macca Ronaldo CS7 Uduji Paolo Kingsley stavo misto madonna mamma mamma non importa che scanto si importa è buona CR allarga il gioco buona dai 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 guarda lì il coso di un metro chi**ci il coso dai fai uno scatto buono dai Big Mac ci provo oddio da fermo era perfetto basta basta mister b no mi devo concentrare non mi salta No, io vado in giro No, Bernie, Bernie Ma Bernie, fai cagare Ma è stato fermo Eccoci qua con il secondo tempo Proveremo a ribaltare una partita che sembra segnata Magari, Lecce-Milan Dai 3 a 4 Ma cos'è? Mi casca fuori E tu finisci di dirmi cosa devo fare? Si fa Eccolo Su Pic 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 La porta lui sul drone E tutta il McDonald's No, no, no No Bernie Io ti sposo in chiesa No, Angolo, coglione di dai Dai, 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 dai No Peggio di me Cosa succede se si scioglie il codino il calazzo? Cazzo, che cazzo di domanda è? È bruttissimo Dai, osu Più, ma è tu, ma è il carone, corpito Più, ma è il carone, corpito Più, ma è lui Fa' impazzire lo stato Questo che stiamo affrontando Non è fortissimo No Soltanto che Comunque Ma perché devi parlare? Oh, appena finito di dire Non è molto forte Ci fa un gol Interno Interno A giro È un coglione Guarda bene Guarda bene quanto fa schifo Ma no, hai gufato? Eh, io mi fai Dai, Usuji, che sono bombe Dai, Mastardi, che sono bombe Dai, Usuji, che sei un bombe Dai, Big Mac, che sei un bombe Allarga Tira, tira il mancino, tira Non voglio Aspetta Tira, tira Sì, 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 sì Tripletta con Big Mac, ragazzi Quanto trovo il barajama Tripletta con Big Mac Massimo Faccio schifo, è comunque Maccano Boateng Boateng Bravo, Boateng, bravo Boateng, bravo Boateng, Teng, Teng Boateng, Teng, Teng Boateng, Teng, Teng, Boateng Quanto cazzo fai schifo Dove giocare in orizzontale Aspetta Gioca la Big Mac Gioca la Big Mac Vai Oddio Ragazzi, la squadra La partita della vita Quattro gol Quattro gol Con Mazzarone, ragazzi Quattro gol Ragazzi, quattro gol Con Mazzarone Non è ancora tutti lui Provala Al novantesimo Il bug Ma sei una pippa Sei un po' una pippa No, non posso prendere i cinque No Dai, ultima E per adesso Quanto cazzo fai schifo No, no, no Edo, Edo, attento Edo, attento C'è la partita No, ti prego No, no Che difesa è No, no, ragazzi Al novantesimo Ancora No, questo balletto Basta Fammi scrivere in chat privata No, io Basta, basta Adesso gli invio un messaggiaccio No, no, non si può Non si può perdere così Edo, Edo, sono andato via dalla stanza Non ce l'abbiamo fatta Abbiamo finito 5-4 Ho anche recuperato due gol Però, quattro gol di Macaroni Incredibile, ragazzi Potenziamente E ora Ci meritiamo Vediamo chi è il peggiore Ci meritiamo un gran giocatore Vediamo un po' Con quattro gol Ma ma il 9.6 Dai, Shosha è il peggiore Con 5.4 No, Shosha Mi dispiace per Mike Shosha Che salutiamo Quindi compreremo Un nuovo terzino Un terzino sinistro Vi lasciamo le alternative Come prima alternativa Di riparare con il nostro video E ci vediamo alla prossima E soprattutto Ci vediamo alla prossima Con Big Mac Bella Grazie a tutti Per schillare